Poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Il pianto frontale sulla Pechiese perde la vita una donna di Cagli feriti il marito e un trentenne di Piobbico Giubileo della misericordia, Monsignora Trasarti apre la porta santa della cattedrale di Fano Insieme al Vescovo, la mamma Collins e il piccolo Divan salvati dai medici senza frontiere a largo del Mediterraneo Accorpamento degli istituti scolastici per il consigliere regionale Carloni C'è una disparità di trattamento per le scuole del territorio La regione salvi il Battisti Amatelica, l'Alma Juventus Fano perde 2-0 e si fa scavalcare al secondo posto Ora la San Benedettese è a più 10 Buonasera, benvenuti a Occhio alla Notizia All'avvio del Giubileo Diocesano Il Vescovo Trasarti ha aperto alla porta santa della cattedrale di Fano Con lui il piccolo Divan, un bambino nato in mezzo al Mediterraneo durante una traversata E la sua mamma, il servizio di Simona Zonghetti Con l'apertura della porta santa, il Giubileo della Misericordia si è avviato anche per la diocesi di Fano Fossumbrone Cagli Pergola Centinaia di fedeli nel pomeriggio di domenica 13 dicembre Hanno preso parte al breve pellegrinaggio Partito dalla Basilica di San Paterniano intorno agli ore 16 La processione è proseguita fino alla cattedrale di Fano Dove il Vescovo Armando Trasarti ha varcato la porta insieme a Collins e a suo figlio Divan Digniti Il neonato di tre mesi che la giovane camuranense ha partorito il 18 settembre scorso Sul balcone dei Medici Senza Frontiere a largo del Mediterraneo Ora sono ospitati in una casa di Ronco Sambaccio insieme ad altre ragazze In attesa di ottenere lo status di rifugiato politico Considerato simbolo del Giubileo, Divan è stato il primo ad attraversarla Dopo di lui incortè una folla di persone che il Duomo ha fatto difficoltà a contenere E che ancora durante l'Omelia continuava ad avanzare Questa, ha detto Sua Eccellenza, è un'occasione per crescere nel nostro senso di appartenenza All'unica Chiesa di Cristo presente nel territorio della diocesi Così la cattedrale, che è la Chiesa Madre In cui sono vitalmente legate tutte le altre sparse nel territorio Ridiventerà segno e mistero di comunione Meditare, accogliere, testimoniare e rinnovare la coscienza Grazie all'ascolto della parola di Dio Sono alcuni dei verbi necessari per gustare il valore della misericordia Quale vero volto di Dio Questo significa fare i conti con la nostra ferita Tra due persone il misericordioso non è il più debole ma il più forte Chi non si sente amato non sa amare Chi non crede all'amore vuole contare solo su se stesso Essere autosufficiente Accettare di essere amati è molto più difficile di quel che crediamo Perché sotto sotto conosciamo la nostra misera E noi riusciamo ad accettare che qualcuno ci ami come siamo veramente Misericordia è farsi vulnerabili come Dio Lasciarsi ferire dal dolore, dal bisogno, dalla sete di giustizia di altri Misericordia è farsi prossimi Sporcarsi le mani per fasciare e guarire Buttarsi nel folto della vita Ascoltare il grido dei poveri e il gemito di tutto il creato Consolare, lottare, pregare e agire Per diventare realmente fratelli e sorelle capaci di accoglienza e perdono reciproco Bisogna diventare consapevoli che Dio ci ama Volerci bene così come siamo Amarci a vicenda così come siamo E accoglierci reciprocamente nella differenza e nel dono Nonostante la fiducia che possiamo avere gli uni per gli altri Ha detto Monsignore Ci sono sempre parole che feriscono Atteggiamenti che prevaricano Situazioni nelle quali le suscettibilità si urtano Perdonare e guarire dentro di sé E vedere che cosa bisogna cambiare E anche ciò per cui bisognerebbe chiedere perdono e riparare Perdonare ha detto Trasarti E dare spazio ai nostri cuori Ecco perché non è mai facile perdonare Occorre esercitarsi nella misericordia E domenica mattina il vescovo Trasarti ha incontrato i sindaci e gli amministratori Dei 23 comuni della diocesi di Fano, Fossembrone, Cagli, Pergola Al centro del confronto dal titolo Una politica di coesione sociale Sua eccellenza ha invitato gli amministratori Ad avere maggior conoscenza del territorio nel quale operano Ha parlato della presenza di 149 immigrati richiedenti asilo Richiamando un'attenzione costante per i più indifesi ed i deboli Trasarti poi ha citato la crisi della Banca delle Marche Che ha messo in ginocchio centinaia di piccoli risparmiatori Nell'ormai tradizionale incontro pre-natalizio Ha invitato i politici a litigare meno E a lavorare insieme per il bene comune E purtroppo ancora strade insanguinate Dorisa Materni di 78 anni di Cagli ha perso la vita In un tragico incidente accaduto domenica 13 dicembre Intorno alle ore 12 e 30 lungo la Pecchiese La donna era a bordo di una Mercedes 220 Assieme al marito di 73 anni Quando in località Sassorotto Si è scontrata frontalmente con una Opel Astra Condotta da un trentenne di Piobbico La donna è deceduta nella notte all'ospedale di Urbino Dove sono stati ricoverati in prognosi riservata Anche il marito della donna e il trentenne Secondo una prima ricostruzione della dinamica Al vaglio dei Carabinieri di Apecchio Il giovane avrebbe invaso la corsia opposta Su cui viaggiava la coppia di anziani Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Cagli Per estrarre i feriti rimasti incastrati nelle lamiere dell'abitacolo Ed ora notizia di Cronaca La polizia di Urbino ha individuato e denunciato All'autorità giudiziare gli autori dei furti sulle automobili Avvenuti durante le festività dei defunti vicino al cimitero di San Bernardino Si tratta di due italiani senza fissa dimora Un uomo di 37 anni e una donna di 47 Entrambi pregiudicati e attualmente alloggiati in un campo nomadi di Padova La coppia agiva insieme Cioè mentre uno faceva da palo l'altro agiva indisturbato A indirizzare le indagini verso i due Sono state le immagini dei bancomat presenti in zona E ora torniamo a parlarvi del Battisti Che per via della riorganizzazione rischia di perdere la sua autonomia Su questo argomento è intervenuto anche Mirko Carloni Che dice che nota appunto una disparità di trattamento Tra le diverse città delle Marche Sentiamo la sua dichiarazione Da terza città della regione ci stiamo trasformando nella cenerentola dell'intero territorio Il consiglio regionale Bocci, il piano della provincia E apre un tavolo di confronto con le scuole E la richiesta del consigliere regionale di area popolare Mirko Carloni Che dati alla mano presenterà un emendamento Per impedire di accorpare gli seduti scolastici Dal prossimo anno infatti il Battisti perderà la sua autonomia Per dar vita al polo tecnico con il Volta, Olivetti, Senica e Archimede Perché la città di Fano deve essere trattata peggio delle altre Si chiede il consigliere Pesaro che ha 90.000 abitanti avrà 7 autonomie scolastiche Senigallia con 45.000 ne avrà 5 Urbino città di 15.000 abitanti avrà 4 autonomie scolastiche Mentre Fano che ne ha 60.000 ne avrà 4 di autonomie scolastiche Che la provincia vuole ridurre a 3 Una scelta secondo Carloni che penalizza i giovani studenti e la comunità fanese Io credo che questo comportamento, questa disattenzione per Fano sia grave E che vada assolutamente corretta A questo proposito ho presentato un emendamento in regione Perché non penso che Fano meriti di essere trattata in questa maniera Dunque in concreto che cosa si potrebbe fare? Intanto servirebbe sapere se l'amministrazione comunale si è mossa su questo argomento E sicuramente se lo ha fatto, in che modo Ma fare uno sforzo comune, tutti gli amministratori comunali I consiglieri regionali eletti a Fano Affinché in consiglio regionale possa essere approvata una modifica E in questo senso io ho trovato anche una certa disponibilità Da parte della dirigenza regionale della pubblica istruzione Che evidentemente questo piano non ha tenuto conto di certe sensibilità E anche dell'importanza di Fano Perché Fano deve perdere l'autonomia dell'istituto tecnico commerciale Battisti Mentre nelle altre realtà si è stato molto più attenti Alle autonomie e alle delicatezze anche storiche Cosa si può fare? Un emendamento che modifichi l'atto Quando verrà in consiglio regionale Ma mi piacerebbe farlo con il concorso di tutti Andiamo nella città ducale Urbino Per un incidente stradale Due ragazze sono state investite in via Guido da Montefeltro Appunto a Urbino di fronte al bar Mystic Non sono in gravi condizioni e non hanno perso conoscenza Una delle due ragazze ha riportato una lesione a una gamba L'ambulanza intervenuta sul posto Le ha trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia La donna alla guida di una panda bianca Si stava dirigendo verso l'ospedale a velocità ridotta Le ragazze sono state travolte mentre camminavano sul ciglio della strada Ed ora parliamo degli eventi che contraddistinguono queste festività Andiamo nel centro storico di Fano Che è stato animato nella giornata di domenica Da balli e da danze nella ricorrenza di Santa Lucia Vediamo cosa è successo Hanno reso maggio a Santa Lucia Le allieve della scuola di danza New Latin Academy di Mattia Diamantini E quelle di progetto danza di Alice Vegliò Che insieme alla Proloco di Fano Fano Mufortune hanno organizzato in centro storico Un evento per celebrare la ricorrenza della martire cristiana Protettrice della vista e simbolo della luce A suon di musica hanno percorso la via principale, Corso Matteotti Dando vita a originali coreografie fino ad arrivare in piazza a 20 settembre Per l'esibizione finale con decine di candele I lumi erano posizionati sotto l'albero artistico realizzato da Paolo del Signore e Stefano Seri Alto 12 metri e tempestato di LED Dopo tante critiche e polemiche scatenate sui social Si è trasformato in una vera e propria attrazione per fanesi e turisti A far da cornicio il mercatino natalizio Un evento suggestivo che è stato il culmine di un pomeriggio ricco di iniziative A cominciare da un lungo corteo di fedeli Partito dalla Basilica di San Paterniano fino alla Cattedrale Per l'apertura della Porta Santa in occasione del Giubileo della Misericordia Lungo il corso invece a farla da padrone è stata la mostra Mercato dell'Antiquariato Insieme al mercatino dei collezionisti In tanti poi hanno ammirato la mostra allestita nella Sala San Michele A fianco dell'Arco d'Augusto Dove fino al 20 novembre prossimo rimarranno esposti oltre 60 disegni Realizzati da uomini e donne richiedenti asilo ospitati nelle tre strutture di Fano Nella pinacoteca del Palazzo Malatistiano invece Fino a domenica 31 gennaio sarà possibile ammirare l'isposizione di sei angeli legnei dorati Si chiescono dai depositi museali e che con molta probabilità facevano parte del pregiato corrito della chiesa di San Pietro in Valle Immancabili le novità al presepe di San Marco di Don Marco Polverari Allestito nelle cantine di Palazzo Fabri in via Mura Sangallo Con tre nuovi diorami, 350 metri quadrati e 200 dipinti decorativi Dopo l'apertura eccezionale per le visite guidate che ha registrato nel fine settimana Circa 1100 presenze aprirà ufficialmente al pubblico il giorno di Natale fino al 6 gennaio E sarà visitabile tutti i giorni dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 19 Insomma il successo delle iniziative natalizie è stato assicurato grazie alla partecipazione di tutte le realtà cittadine Il Natale più di Proloco, Comune, Confcommercio e Confesercenti sembra aver fatto centro Cambiamo argomento, parliamo di un'infrastruttura della quale la città di Fano si dovrebbe dotare fra pochissimo Parliamo della pista ciclabile che dovrebbe collegare il fenile con Fano Questa mattina è iniziata la bitumatura del primo tratto di pista Mentre nella giornata sono proseguiti anche i lavori nel piazzale Pucci a Metaurilia La scorsa settimana invece si sono conclusi quelli lungo la strada comunale delle Cerquelle L'intervento ha interessato un tratto di 2000 metri per una larghezza di circa 6 Durante le operazioni sono tornate alla luce 18-20 bocche di lupo per la regimentazione delle acque meteorologiche Che nel tempo erano state coperte E ora parliamo di editoria con un libro che ha un titolo quanto mai particolare Ma è estremamente significativo Si chiama Come si diventa cretini Ed è il titolo di un libro a cura di Alfredo Pacassoni Che verrà presentato martedì 15 dicembre alle ore 17 nella biblioteca comunale San Giovanni di Pesaro Il testo che ha l'obiettivo di promuovere i diritti della persona dall'infanzia alla terza età È stato pubblicato dalla Regione nell'ambito dei quaderni del Consiglio regionale delle Marche E verrà distribuito gratuitamente a tutti i partecipanti Ed ora parliamo di mercatini che in questo periodo dell'anno imperversano in lungo e in largo Sabato mattina di fronte alla Memoteca a Fano ce n'è stato uno estremamente significativo Soprattutto per il suo scopo Perché è servito per sostenere i bambini, i profughi della Siria Vediamo che cosa è successo Mercatini di Natale, che passione Ormai siamo da tempo contagiati da questo tipo di evento Che ogni anno sotto le feste e natalizie occupa i fini settimana di molti di noi Ci si trova di tutto ogni oggetto che per fare un regalo o un pensiero possiamo acquistare Ma a Fano c'è un mercatino che ci regala qualcosa in più di un semplice oggetto o di un regalo sotto l'albero Il mercatino solidale di Fano ci dà la gioia, la contentezza che solo la solidarietà è in grado di donare Nei giardini di fronte alla Memo a Fano anche quest'anno il grande cuore di mamme e bambini delle scuole elementari di Fano Ha fatto sì che arrivino, provento degli oggetti venduti e di raccolta di fondi Ai bambini della Siria oltre 5.600 euro consegnati all'Auxilia Italia e ad un commosso e raggiante Nino Fezza Per tanti anni ho fatto il Cine Reporter in Rai, dopodiché ho deciso di fare qualcosa di diverso Cioè di trasformare questa mia esperienza in un regalo per i nostri bambini, cioè creare il concetto di solidarietà Sono tre anni oramai che vengo nella vostra città e mi sento quasi un fanese a tutti gli effetti, è un'accoglienza meravigliosa E a questo punto poco importa che chi ne giova di più sia chi la fa o chi la riceve la solidarietà La cosa che conta è che qualcuno che sta peggio di noi sappia che qui c'è qualcuno che gli è vicino E i disegni che arriveranno da loro gli racconteranno proprio di questo Una grossa soddisfazione, abbiamo raccolto parecchi soldi, possiamo anche dire la cifra, circa 5.500 euro che sono veramente tanti Ma c'è qualcosa in più, adesso guarda le mie mani, eccola qua Questo è un piccolo tesoro Esatto, è un vero tesoro, sono diecine e diecine di disegni che i bambini di Fano, eccoli qua Stanno inviando, io faccio il postino in questo caso, stanno inviando i bambini siriani del campo di Attama Beh, se non è solidarietà questa, cosa è la solidarietà? Io quando giro per Fano vedo i bambini che mi chiamano, ma questa è la vittoria, insomma mi sento un fanese da questo punto di vista Veramente come dico sempre Lino, tre volte grazie, grazie perché ci siete, grazie per la pazienza che avete per ascoltarci E grazie perché comunque ci aiutate sempre, grazie e buon Natale a tutti Trent'anni di riprese e 17 conflitti mondiali, raccontando per immagini il dolore, la disperazione e l'odore acre della morte da vicino Non hanno piegato l'entusiasmo e la sua tenacia per i bambini siriani Perché come dice lui, se una storia non la racconti, non esiste E siamo al calcio, parliamo dell'Alma Juventus Fano che domenica a Matelica ha subito una sconfitta perdendo 2-0 E naturalmente la sconfitta ha un duplice sapore amaro per tifoseria e per società Perché con questa sconfitta vengono sorpassati proprio dal Matelica E in studio abbiamo, come sempre, Sergio Catalani che ci dà qualche delucidazione sulla partita E poi, come di consueto, classifiche e pagelle Allora Sergio, questa sera vediamo che cosa è successo a Matelica Un sapore amaro che è rimasto nella bocca dei tifosi per questa sconfitta Ma Lino, sì, diciamo che i tifosi accorsi anche ieri numerosi a Matelica Ci credevano e speravano in tutta altra prestazione Dopo un quarto d'ora si era già sulle 2-0 per la formazione matelicese Con esposito l'ala sinistra bianco-rossa superstar Che poi vedremo anche nell'occasione del rigore Una sconfitta brutta, amara, senza discussione Che è figlia sicuramente di tanti errori societari Per un mercato che è ancora stenta a decollare È figlia sicuramente di scelte inopportune E a volte anche scelerate da parte del Minister Che si incaponisce a schierare sempre una difesa 3 inadeguata E anche ieri con Salvato e Marconi completamente in balia Di Spolito che chiaramente aveva un altro passo E anche il rientro di Torta non è sicuramente stato dei migliori Una squadra quindi che ha lasciato ben perso il passo al Matelica Che ha dominato in lungo e in largo sfiorando anche il terzo gol Ora sotto con il derby, domenica prossima c'è la Vis al Mancini I Panthers si stanno già organizzando E sicuramente faranno come sempre la loro bella figura Almeno loro vincono sempre come ci tengono spesso a sottolineare E speriamo che sia veramente una bella giornata di sport E che vinca sicuramente il migliore E che sugli spalti ci sia veramente sia il pubblico delegato Ma anche tanta correttezza Ora andiamo a vedere comunque gli episodi di questa partita Con Spolito che vedete il furetto molisano Che si beve tutta la difesa Marconi, questo è l'episodio del rigore Lo sgambetta, qui c'è poco da dire Vedete il piede sinistro di Alessandro Marconi Che proprio non è riuscito a tenerlo Vedete qua, Spolito Dopo aver furoreggiato nell'area di rigore Granata Da solo contro 4-5 Granata Che non sono riusciti a tenerlo Va a procacciarsi Cerca solo il rigore Il rigore che ottiene il direttore di gara Positiva alla sua prestazione ieri È deciso, ben piazzato E indica il discreto Che poi Spolito trasformerà con freddezza Spiazzando Ginesta Che ieri c'è da dirlo Ha dovuto abbandonare il campo Dopo il secondo gol Siglato dal Materica Vedete ora Intanto questo è il secondo gol Con Nodari che perde palla A centro campo Pesaresi che mette nel mezzo E il gol di Giovannini Ma c'è da notare Come vedete qua Nodari si fa uccellare Tra virgolette dall'1-2 Dei biancorossi Rimane lì fermo Nonostante cerchi di rientrare Lascia la difesa completamente sguarnita Quindi un Nodari fuori porta In questa circostanza Che lascia la difesa sguarnita Il diagonale perfetto di Pesaresi Il gol di Leon Giovannini Si era al 15esimo Quindi un 1-2 tremendo Vedete Nodari qua Che nella circostanza Si lascia beffare Veramente opaca Ed in colore ancora una volta La prestazione del capitano Che poi a fine gara Si è rivolto ai tifosi Dicendo di stare calmi Di stare tranquilli Che poi nel derby con la VES Ci sarà un altro Fano Beh anche qui Qualcosa da opinare Sicuramente c'è Andiamo ora intanto A vedere i risultati Della sedicesima giornata Del campionato nazionale Direttanti serie DG1F Con Matelica Che batte appunto L'Alma Juventus Fano per 2-0 Quindi Avezzano Batte Iesina 5-2 Campobasso Batte Folgore Veregra 2-0 Castelfidardo Batte Amiternina 1-0 A Chieti San Benedettese Batte Chieti 2-1 A Fermo Re Canatese Batte Fermana 2-0 Ad Ascoli Monticelli Batte Isernia 4-0 San Nicolò E Agnonese 2-2 In realtà Per la doppietta Di Tommy Marold Alex Granata In gol Anche ieri Che si issa In cima Alla classifica Dei Camonieri E la Vispesor Che al 93 Batte il Giulianova Per 2-1 Per una classifica Che vede La San Benedettese Solitaria Sempre più solitaria In vetta Con 38 punti Più 8 Sul Matelica Seconda forza Del campionato Che quindi A questo punto Effettua L'operazione Sorpasso Sull'Alma Juve Che è a 28 E si mantiene Anzi E Finisce terza In classifica Il San Nicolò Quarto A 26 Il Monticelli Lavezzano A 23 Il Chieti Il Campobasso La Folgore Verga L'Iserni A 22 La Isina A 21 La Recanantese A 20 Il Castelfidardo A 19 La Fermana A 17 L'Agnonese A 16 punti La Vispesoro A 15 La Mitenanina A 13 Chiude il Giulianova A 12 punti Be' fatto ieri Dalla Vispesoro Nello spareggio Domenica prossima Il derby Alma Juve Vispesoro Si rinnova Il campanile Che negli ultimi Anni Ha sempre visto Vincere Il Fano È una vis Un pochino più lanciata Doveva essere Una gara Equilibrata E naturalmente A Fano Tutti sperano Che Alma Possa risorgere Ma veramente Il periodo Non è dei migliori Ora le pagelle Che certificano E testimoniano Quanto da me Espresso Pocanzi Con Ginestra Che Lascia Gioca Un quarto d'ora Sebbene Non Sebbene sia Completamente Immune Da Da pec Nei due gol Si becca L'insufficienza Con un Cinque Salvato Quattro Bartolini Quattro e mezzo Lunardini Quattro Nodari Quattro Torta Quattro Sivilla Quattro e mezzo Favo Quattro Sartori Cinque Borrelli Cinque e mezzo Marconi Quattro Falsaperla Quattro e mezzo Sassaroli Sei Che verrà Ceduto Che verrà Lasciato libero In settimana Al pari di me Due Assenze Che saranno Sicuramente dolorose In quanto L'Alma Dopo aver già Svincolato Chiacchiarelli E Buongiorno Ha solo Immesso nel Motore Sartori Quindi sarebbero Quattro Cessioni Fino a questo Momento E un solo Innesto Ecco Spiegato La delusione Per questo Mercato Che non Decolla E sicuramente La società Non è Esente Non è immune Da pecchi In questo Frangelo Speriamo Da qui a Giovedì Che si corra Ai ripari E la società Che sta trattando Alex Ambrosini Porti a casa Diciamo Un Almeno Un giocatore E un paio Di Under Marcantonini Secondo Portiere Sei Come detto Alessandrini Non ci convince Neanche questa volta Anzi Secondo noi È un po' L'artefice Di questa Disfatta Del Fano Con scelte Spesso Inopportune E cervellotiche Gli diamo Il direttore Di gara Che per L'occasione Di ieri Era sempre Di Pistoia Quindi Il signor Meraviglia Di Pistoia Ha diretto Senza infamia E senza lode Con un 6 Bene Grazie Sergio Per il tuo Contributo E adesso Prima di Lasciarvi Io vi do Due comunicazioni Importanti La prima È questa Le vostre Segnalazioni Per noi Sono Importantissime E allora Vi do i riferimenti Per inviarcele Avete a disposizione Un numero Di telefono Per effettuare Degli sms Delle telefonate Oppure dei Whatsapp 338 49 68 250 Oppure potete Mandarci anche Una mail Per segnalarci Qualsiasi cosa Voi lo riteniate Utile e opportuno Redazione Chiocciola Occhiolanotizia Punto it La seconda Comunicazione Che vi faccio È questa Anche quest'anno Torna Ormai come sapete Puntualmente Tutti gli anni Il concorso Alla scoperta Dei presepi Dall'8 dicembre Al 6 gennaio Dovete mandare Tre scatti Fotografici Oppure un video Anche fatto Con un telefonino Un tablet Della durata Massima Di 30 secondi E sia nelle foto Sia nel video Sarebbe utile E bello Che compaia Anche l'autore Dell'opera Importante Mandare Scatti E video A questo Indirizzo Presepi Chiocciola Fanotv Punto it Bene Con quest'ultima Comunicazione Io vi lascio Termina qui Occhio alla notizia Grazie per essere stati In nostra compagnia A seguire come sempre Il lunedì La partita Dell'Alma Juventus Fano Buona serata A tutti voi Buona serata Buona serata Buona serata Buona serata